Grazie per averci aspettato, alla vigilia di una partita evidentemente molto significativa e importante riesce a darmi da 1 a 10 un valore per questo Roma-Napoli che in chiave Champions è probabilmente per voi quasi l'ultima chiamata? Sì, è una partita importante, siamo d'accordo, credo che mancano tante partite, tanti punti noi sappiamo che soprattutto alla fine abbiamo partite che se possono vincere per questo è importante farlo bene adesso e soprattutto farlo bene durante queste due mesi Quanto è importante? De 1 a 10 non posso dire quanto, però credo che per loro e per noi per avvicinarsi al secondo posto, al terzo posto è importantissimo e se no dobbiamo continuare a lavorare pensando che mancano ancora 9 partite Sì, 9 partite di campionato, la semifinale contro Lazio, poi la doppia gara, la doppia sfida di Europa League contro il Fosburg Queste partite, questo mese di aprile che di fatto è inaffellabile per le ambizioni della Napoli potrà spostare anche gli equilibri per quel che riguarda il suo futuro? No, credo che parliamo del mio futuro tante volte Io queste settimane vedrò il Presidente e ragioneremo sul futuro, questo è quello che posso dire e che devo dire e non ripeterò questo un'altra volta, parlerò con il Presidente, ragioneremo sul futuro è cosa normale, cercando sempre il meglio per il Napoli Mediaset Buongiorno Buongiorno, due domande La prima, a proposito, ritorno un po' sull'importanza però di questa gara perché è innegabile che il Napoli in caso di risultato positivo rimarrebbe pienamente in corsa per la zona Champions in caso di risultato negativo a meno 9 sarebbe più difficile possiamo dirlo che però è una vera e propria sfida per la Champions League Sì, è importante che è una sfida per la Champions sicuro e questo se l'ho detto anche ai giocatori la partita possiamo avvicinarsi, possiamo essere sempre più motivati perché siamo così vicini che è più facile però anche dobbiamo essere attenti perché mancano tante partite l'ultima partita è con la Lazio, dobbiamo giocare con il Parma, con il Cesena l'ultimo mese dobbiamo mantenere il livello e abbiamo anche la Coppa e l'Europa League credo che ho detto che una squadra alla fine, le ultime dieci partite, le ultime due mesi può giocare per tutto, noi abbiamo la fortuna di essere ancora nei tre fronti un'altra, è tornato Iguain, come sta Iguain e poi mi rifaccio alle sue parole siccome qui c'è chi è il detentore della verità e dice che lei sicuramente se ne andrà lei invece ha detto che parlerà con De Laurentiis, quindi non c'è nulla di deciso ho detto prima che incontrerò, ci vedremo con il Presidente e ragioneremo sul futuro nelle prossime settimane, questo è chiaro, Iguain è a posto, ho parlato con lui questa mattina perché arriviamo un po' in ritardo, abbiamo lavorato bene per ora il primo giorno, oggi è molto meglio, oggi è preparato, anche ho visto come sempre, come al solito la scuola va bene e sono positivamente impressionato con l'insigne perché ho visto lavorare molto bene questa settimana, che credo che è un valore aggiunto per questi mesi Allora, solo sull'insigne, se è schierabile dal primo minuto? Non è facile, però dal punto di vista fisico mi sembra che sta bene e dopo chiaramente una partita non è lo stesso come un allenamento, però come ho detto, positivamente impressionato perché mi ha piaciuto il suo lavoro, il lavoro di Camillo, di tutti però, tutte e due che erano qualche mesi fuori, adesso vedo che stanno molto meglio Sport Italia Sì, eccoci, ciao mister Ciao Intanto allo spicio che mi porta a dire, sarebbe veramente bello vedere il Napoli nella partita dall'altra, contro la Roma, ti chiedo se è stato quello il Napoli più bello che abbiamo visto e se ci sono margini di rivederlo ovviamente da qui al termine della stagione Sì, mi piacerebbe anche a me, però credo che, è vero che è stata una partita fantastica però anche la partita con l'Inter che abbiamo giocato in casa a 70 minuti è stata una partita di altissimo livello lo stesso Questo è il Napoli che vogliamo vedere tutti, ne aspetto in questa possibilità domani L'altra faccia della medaglia, le ultime tre trasferte con sconfitte, Palermo, Torino e Verona Volendo ammettere che c'è un filo che le ha anche accomunate dal punto di vista, non lo so, poi lo confermerai dell'atteggiamento, dell'approccio, qual è la cosa che categoricamente o l'errore che categoricamente il Napoli non può permettersi domani con la Roma conoscendo ovviamente l'organizzazione e la forza dell'avversario Sì, devo dire che in queste partite veramente la squadra non ha reagito, le episodi che erano negativi non ha reagito bene perché per me ancora manca un po' la maturità L'altra partita con le squadre di inizio più forte la squadra l'ha fatto bene però non ha assunto neanche un gol all'inizio come è successo in queste partite o per un errore nostro credo che sì siamo concentrati, sì facciamo quello che abbiamo fatto contro la Roma, contro l'Inter in tante partite in Europa lì, la squadra ha la capacità di andare a Roma e anche vincere Senza fare regali Noi la maturità è anche fare degli errori e reagire bene e non lo abbiamo fatto soprattutto in queste trasferte per questo ancora dobbiamo continuare a maturare Grazie a te dello sport Buongiorno, ne ho un paio, una è sulla partita perché ha detto di Insignia, ha detto di Zunica in linea di massima il Napoli arriva molto bene a questa partita rispetto a una Roma che è più incerottata e in prospettiva il Napoli lo scorso anno ha finito molto bene se ricordo ha fatto 20 punti in 10 partite si è dato più o meno un'idea di quelli che devono essere i punti che il Napoli bisognava simulare per raggiungere il secondo o terzo posto perché ha parlato lei di ultime partite abbastanza tra virgolette sulla carta per carità favorevoli potrebbero passare i 20 punti dell'anno scorso e ne servono costi di più veramente non ho fatto i calcoli perché noi abbiamo la Roma adesso però dopo viene al San Paolo la Fiorentina, la Sampdoria per questo questi incontri diventi possono cambiare tutto per me come ho detto tante volte concentrarsi alla prossima partita sono convinto che la squadra sta bene per questi due mesi però al di là come sta la squadra dopo dipende del risultato la partita dell'Inter che è stata una partita bellissima abbiamo fatto un errore alla fine abbiamo paregliato però la prestazione della squadra è stata buona lo stesso l'altra mi aggancia un po' al collega Ugolini non le chiedo del suo futuro ma quanto può spostare per l'idea del progetto Napoli che lei ha in mente che sta portando avanti comunque da due anni la mancata qualificazione o eventualmente come ci auguriamo la qualificazione cioè cosa può spostare nel progetto non nel suo futuro? ma io sono sempre positivo credo che la squadra lo farà bene dal punto di vista del risultato come ho detto prima siamo in tre fronti mi sembra abbastanza positivo e se questo può cambiare le cose come ho detto parlerò con il Presidente ragioniamo un po' queste settimane però non è una questione solo di questo un po' di tutto e dobbiamo fare quello che deve essere meglio per il Napoli il mattino buongiorno mister si ripropone il confronto con il rivale Amito di Garzia ecco la Roma è in una fase di evidente difficoltà lei in che squadra si aspetta domani? non credo che se parliamo della sua qualità lo sappiamo tutti giocare là non è facile lui è un allenatore con esperienza e sa che cosa deve fare però aspetto che noi possiamo fare anche un lavoro a partita sicuro che con i giocatori che hanno lo faranno bene noi abbiamo avuto tante partite senza giocatori ancora la squadra l'ha fatto bene loro si hanno perso qualcuno l'altro che hanno sono di tantissima qualità che possono farlo bene sicuramente Repubblica abbiamo parlato con la squadra questa settimana ieri oggi credo che tutti sono consapevoli dell'importanza del contributo di ciascuno guardando questi che giocano un po' meno lavorano con l'idea chiara di dare una mano per questo decidere chi può giocare una partita o un'altra per me è la cosa più difficile però dopo ho fiducia che loro in campo possono farlo bene sì facciamo qualche errore è parte del calcio però la squadra dal punto di vista mentale mi sembra preparata per affrontare tutte le tre un'altra brevissima come vi detti di Gargano che è avvocato tornato all'infortunio come è stato se non lo vediamo ancora? bene tutti questi sono convocati possono come ho detto dare una mano lui è importante per noi avere la competizione tra loro al centro campo sempre aiuta senza Volkan questa partita è importante Corriere dello Sport chi ha più pressione? la Roma che sta avanti ma è in crisi e non può permettersi di sbagliare più e in casa non vince da troppi mesi o voi che siete indietro non potete sbagliare? o forse non potete perdere? no, io il mio discorso con la squadra sempre con la mia esperienza è essere tranquilli di lavorare al cento per cento concentrati per farlo bene ogni partita si va bene è più facile, il discorso è più semplice se non va bene dobbiamo continuare a lavorare perché fino alla fine, se puoi vincere, fino alla fine possiamo giocare con la Fiorettina qua, con la Sampdoria qua dopo con la Lazio l'ultima partita può darsi che giochiamo per il secondo o il terzo posto con la Lazio l'ultima partita non lo so, per questo è importante mantenere un po' la calma come sempre dico equilibrio, tutti insieme, spalla e spalla e sarà più facile rendere l'occhio mi pare di aver capito che i miei occhi di Stey non sarei più no, io sto pensando andare là per vincere però con tantissimo rispetto perché la Roma è una squadra forte e l'Apoli non lo fa benissimo a Roma tutta l'istoria, vince qualche volta però non è una piazza facile, questo lo sappiamo però fiducia abbiamo noi stessi Radio Chris Chris Buongiorno mister, buongiorno la prima la volevo fare su Caglie Conner il suo grande lavoro difensivo anche la prenecazione tattica è indiscutibile però fino a novembre ha realizzato 8 gol a gennaio ha segnato un gol, a questa 9 gol però non è più l'uscito sottoporta come se lo spieghi a questione? Sì, questo può succedere, sappiamo che i giocatori che devono fare gol dipende anche della fortuna tante volte dopo della fiducia nel caso suo tutti i numeri che abbiamo i giocatori che corre di più più veloce, che scappa di più sì, per dire una partita che ho visto in queste ultime partite che abbiamo giocato a casa Higuaín faceva 20 scatti che è una buona cifra Caglie Conner faceva 31 un'altra partita fatta 33 l'esforzo c'è, l'intensità, la velocità che lui lavora c'è però le manca il gol, le manca la fiducia, le manca un po' di fortuna perché lui arriva alla conclusione e tante volte lo fa bene la palla esce per un centimetro o il quartiere fa una parata credo che è una questione solo di essere tranquillo continuare a lavorare per la squadra farà gol o assist per me va bene se non lo fa e vinci la squadra lo stesso Mister, poi le volevo chiedere un'altra cosa lei è in scadenza di contratto spesso leggiamo, qui ascoltiamo anche che uno sfogliatoio con un allenatore in scadenza di contratto può essere demotivato, distratto lei è un po' di esperienza e penso che le sia capitato anche altre volte di essere in scadenza di contratto in uno sfogliatoio è vero quello che leggiamo, ascoltiamo oppure sono soltanto leggende? io le dico alla squadra che al di là di quello che si dice devono essere concentrati a fare il meglio per la squadra, per i compagni, per i tifosi per tutti che siamo là però la mia esperienza, l'ho detto, è sempre vincere ogni partita l'ultima squadra che ho allenato abbiamo fatto il terzo posto nel campionato e abbiamo vinto l'Europa lì e io sapevo a gennaio che arrivava un altro allenatore ho ancora collaborato, loro lo sapevano abbiamo collaborato e abbiamo fatto gol nella finale dell'Europa lì e nell'ultimo minuto credo che questo spiega che quando uno ha la mentalità di vincere la trasporta anche ai anche i giocatori per ogni partita credo che deve essere così Canale 8 Ciao mister, due domande che sono collegate tra loro la prima ti aspettavi la Juventus ancora così avanti le milanesi ancora così dietro e cinque squadre in sette punti a dieci giornate dalla fine l'attuale situazione di classifica o credevi in un altro tipo di campionato? Questo non è buono per noi non tutti così vicino però perché l'anno scorso andavamo un po' meglio vedere la Juve avanti era chiaro al di là dell'allenatore credo che Alevi ha dimostrato il suo livello lo sta facendo anche meglio in Europa credo che si sapeva che era la squadra più forte per tutte queste cose che abbiamo parlato sempre fatturato squadra rossa Roma queste cose e lo ha dimostrato un'altra volta la Roma si aspettava una buona stagione l'anno scorso ha fatto 85 punti mi sembra che era il record l'espero della Roma non è facile fare sempre il record noi abbiamo fatto il record e volato il record nella storia del Napoli non è facile fare sempre il record però credo che è positivo per il calcio italiano avere tante squadre in pochi punti chiaramente noi pensiamo che poteva essere meglio perché tante partite è stato un poco quello che ha cambiato la partita però non possiamo fare un'altra cosa che concentrarsi nelle prossime partite e provare a farle meglio ti dicevo che erano collegate le due domande perché proprio alla luce di questa situazione che tu hai fotografato perfettamente cioè una situazione di grande equilibrio e alla luce del fatto hai usato tu la parola fatturato che il Napoli non ha un fatturato di 300 milioni che può permettere al Napoli stesso di staccarsi improvvisamente da tutte le altre e chiedere noi ce l'auguriamo di vincere 10 scudenti di fila ma invece è più probabile che il Napoli si ritrovi sempre in questa situazione cioè di grande bagarre per lottare ti chiedo ma è possibile avere quest'ansia in sede progettuale per il Napoli senza Champions è tutto finito cioè in 10 anni se il Napoli fa 5 Champions e 5 Europa League può significare che il Napoli non è che finisce perché 5 volte ha fatto l'Europa League questo messaggio può arrivare a tutti da parte della società tua alla città ai tifosi a noi giornalisti perché sembra che quest'anno per esempio noi ci auguriamo che ci vada ma che se non ci va l'anno prossimo non si può giocare io ci provo con il messaggio perché l'ho detto una volta l'obiettivo è lasciare il Napoli 25 anni a questo livello che ti permette qualche volta vincere un escudetto o vincere una Coppa o l'Europa League o qualcosa per strada però non è facile perché le altre squadre hanno giocatori di livello hanno soldi e tutti possiamo spendere noi abbiamo spesso dopo perdere al calciatore che faceva 35 retti ogni anno l'abbiamo fatto credo che il primo anno dopo cambiare un po' tutto 78 punti 10 litri in trasferta e volato questi numeri di punti vincere la Coppa mi sembra che è un passo avanti che quest'anno vincere la Supercoppa non è sufficiente è chiaro che noi vogliamo di più essere in tre fronti non è sufficiente questo non sono d'accordo credo che siamo in una posizione molto buona per una squadra del nostro livello e che tutti vogliamo essere più avanti sicuro certo sentire le voci che se non facciamo sarà io credo che ancora manca abbiamo fiducia che si può fare ancora meglio però siamo a un punto per me molto positivo e ancora nella fase di crescita di questa solitata canale 21 sono qui sono qui lei aveva detto che sperava molto in questa pausa una pausa che poteva in un certo senso rigenerare mentalmente psicologicamente anche la squadra volevo sapere come ha trovato la Duma l'intera squadra Iguain compreso e poi se l'assenza di Totti alla Roma quanto può pesare per la Roma l'assenza di un giocatore credo che è più per Rudy che per me mi sa quanto è importante i Totti per loro io credo che non possiamo discutere la sua qualità però più per loro noi dobbiamo concentrarsi nella nostra squadra come ho detto prima se non gioca uno o l'altro sicuro che il giocatore delle qualità dovrà farlo farlo bene dal punto di vista come ho visto come ho visto la squadra mi sembra molto bene però si dico così domani non possiamo vincere l'anno la squadra ancora non c'è la squadra sta bene la squadra è concentrata caica preparata per la partita soprattutto per me deve essere preparata per questa e per l'altra Iguain perfetto Iguain abbiamo parlato come ho detto ieri che era appena arrivato doveva sistemarsi un po' dove era ha fatto un allenamento normale così sempre la esperienza che ho quando arrivano giovedì non è facile però oggi venerdì tutti hanno lavorato molto bene il fondato con le 24 la Roma potrebbe schierare i turbe e il barbo che sono due giocatori molto veloci rapidi saltano l'uomo e danno profondità ecco in tal caso sul vostro esterno destro esterno basso potrebbe essere inserito un giocatore che ha più capacità di marcatura faccio un nome come il bario è lì che invece di maggio è meno difensore veramente come non so cosa possono fare loro devo lavorare sulla mia squadra penso che dobbiamo guardare l'altra squadra però per me la cosa più importante è la nostra identità che dobbiamo fare noi che in questa fase di crescita devo dire che ancora non abbiamo arrivato al livello che io voglio arrivare però se noi facciamo quello che dobbiamo fare se noi sappiamo come deve giocare la squadra contro un modulo contro un altro modulo contro un giocatore veloce contro un giocatore più forte di testa non mi interessa che fanno loro mi interessa che possiamo fare noi grazie ultima calcio da con i 24 eccomi mister nella sua esperienza italiana quindi tra Inter e Napoli ha avuto modo di affrontare e di conoscere svariati tecnici tanti allenatori ecco tra tutti questi ce n'è uno che lei pensa possa somigliarle dal punto di vista tattico o anche come gestione del gruppo della Rosa chi è il Benitez secondo insomma sì però credo che non devo dirlo io io posso dire allenatori che mi hanno colpito che ho seguito che ho analizzato Arrigo Saki che ho detto tante volte Paccio Maturana e anche del Bosque Johan Kui quando era a Spagna sono allenatori che io ho visto c'è qualche italiano? Arrigo Saki mi sembra che italiano no no di attuali che allenano qui in Italia adesso? sì adesso io credo che Rudy Garzia è un grande allenatore Allegri è un grande allenatore Conte è un grande allenatore ciascuno con la sua caratteristica ho detto che Sarri mi piace come gioca la sua squadra però ogni intorno è diverso non è lo stesso allenare una squadra in vita classifica una squadra che lotta per il campionato Guardiola ha un buon rapporto con lui allena bene sono tanti Ancelotti sappiamo che è un bravo allenatore non posso dire chi è più vicino a me io posso dire questi allenatori che io ho visto e ho provato a imparare qualcosa di loro grazie grazie a tutti grazie per sapere nel luogo di Pasqua che cosa deve trovare io voglio punti sempre voglio punti punti si mettono dentro tre punti ogni partita sono punti buona Pasqua vediamo a presto a presto a presto a presto